So segretario, come vede l'industria del gioco in Italia? Che cosa può fare il governo per agevolare lo sviluppo dei videogiochi e della produzione italiana? Io credo che dobbiamo tener conto anche un po' di quelle che sono le esperienze straniere e soprattutto quei paesi dove l'industria dei videogiochi ha avuto già un certo sviluppo maggiore del nostro. Una delle leve, forse quella più importante, è la leva fiscale, quella delle agevolazioni fiscali. È un settore che indubbiamente ha una varietà di interessi che coinvolge e che sono tutti meritevoli di attenzione perché una delle chance offerte dal videogioco è anche quella di tipo educazionale, cioè il videogioco non solo come strumento di intrattenimento ma anche di strumento per aumentare e affinare le proprie competenze, le proprie capacità cognitive e anche il livello di professionalità se parliamo di videogiochi che riguardano il campo delle lingue per esempio. Ci sono però anche altri aspetti importanti da considerare, una valutazione complessiva di ponderazione degli interessi in gioco. Cioè il videogioco è bello, il videogioco può essere utile anche sul piano dell'affinamento, come dicevo, delle abilità personali, però può avere, se diciamo protratto a lungo, specie sui ragazzi giovani può avere delle negatività dovute a fenomeni di dipendenza. Ecco quindi sotto questo profilo io credo che noi dobbiamo fare valutazioni che vedano a tutta tondo le problematiche.